Grazie 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 Alla Todo bien Il volo Lo abierto Il avio Echa vista Si Resalmamos Vamos Y ya esta 15 o jueves Yo creo que el jueves para irme de ahí a la Fórmula 1 Son un 10 o 10 grados Non si entrava? Non si entrava? Nada Niente Niente Si acasso io vanno a questo però non è così Non si entrava No si entrava Non si entrava Non si entrava Non si entrava Non si entrava Ok Non si entrava Non si entrava Non si entrava Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.